Il comune di Caltanissetta con il suo progetto per la biblioteca Scarabelli rientra nella gradatoria delle proposte progettuali ammesse a finanziamento avendo risposto all'avviso pubblico pubblicato sul sito del Ministero della Cultura per la rimozione delle barriere fisiche, cognitive e sensoriali dei musei e luoghi della cultura pubblici non appartenenti al Ministero della Cultura da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 1, Componente 3, Investimento 1.2. Secondo la gradatoria approvata con decreto direttoriale della Direzione Generale dei Musei il 21 dicembre, la città ed in particolare il progetto che riguarda la biblioteca comunale ottiene quasi 500.000 euro per l'esattezza 499.760 euro una somma che permetterà ai cittadini di fruire maggiormente della biblioteca e dei tesori custoditi al suo interno. L'attenzione dell'assessorato comunale già da tempo si rivolge verso questa direzione nel mese di ottobre infatti il comune nisseno era presente anche agli stati generali delle biblioteche. Nel mese di ottobre insieme all'assessore Natale abbiamo partecipato a questo evento gli stati generali delle biblioteche che si è svolto appunto a Milano e questo finanziamento rientra perfettamente in quello che erano i dettami dell'incontro. Quindi faremo di tutto per rendere la biblioteca fruibile a tutti quanti aperta quanto più possibile per essere utilizzabile, fruibile dai cittadini nisseni. Questo è un progetto veramente importante ed è veramente un fiore all'occhiello di questa amministrazione perché la biblioteca diventerà un luogo accessibile a tutti e questo era il primo punto più importante per quanto riguardava questo finanziamento e inoltre diventerà un luogo nel quale tutta la comunità, tutta la cittadinanza potrà recarsi per condividere esperienze di socializzazione e di cultura. E questo diventa un tassello importante per la costruzione del polo di arte e cultura al quale stiamo lavorando da più di un anno. Quindi noi avremo un attrattore importantissimo al centro storico e sarà una struttura adeguata ai nostri giovani.